Sentite la segnalazione del cittadino, andiamo a vedere, la coscienza civica è a livello zero, siamo in via Vito di Ati dove sono ancora in corso i lavori per la sistemazione del piano stradale del marciapiede, in particolare del marciapiede, in questa zona i lavori si stanno ancora completando, guardate sul marciapiede cosa ci viene segnalato, la presenza di un'autovettura che è stata comodamente parcheggiata sul marciapiede e non solo l'autovettura perché qui abbiamo anche delle moto parcheggiate sul marciapiede. Sembra incredibile, nonostante la presenza di piattoli di sosta realizzate appositamente, c'è chi aspettando che i lavori si completino pensa che sia comodo il parcheggiare sul marciapiede, eppure i lavori sono ancora in corso e non c'è alcun segno di contravvenzione. Come si vede chiaramente non c'è sull'automobile nessun segnale esposto. Possibile che sia questo il livello di educazione dei cittadini di Aversa?